Il 70% del cinema è solo commercio, poi c'è un 30%, forse il 20% che è anche cultura, ma il 20% allora quando dicono bisogna difendere il cinema e il cinema è cultura, dicono una banalità, dicono una cosa assolutamente sbagliata, già lì c'è un equivoco. Come non è vero che tutta la letteratura e cultura, se tu hai in una libreria e vedi i dorsi dei libri, di libri veramente che vale la pena leggere, che ti arricchisce leggere, ce ne sarà? Quanto sarà? 5%? 2%? Io sono venuto a reso per presentare un libro sulla vita di Dante Lighieri e da questo libro io poi ho tratto un film che uscirà a febbraio. Con quali interpreti? Il protagonista è Giovanni Boccaccio interpretato da Sergio Castellitto e poi ci sono altri 62 attori e me li sono dimenticati un po' tutti. Il regista Pupi Avati ad Arezzo alla Casa dell'Energia per un incontro voluto da Cultura Nazionale ha presentato il suo libro che anticipa l'uscita del film L'alta fantasia, il viaggio di Boccaccio. Pupi Avati credo che sia la celigina sulla torta sul 72esimo evento di Cultura Nazionale in 5 anni. Un grande sforzo economico, un grande sforzo intellettuale, un grande sforzo di passione, però ripagato da personaggi come Pupi Avati che vengono ad Arezzo, invitati da noi, ma anche e soprattutto dalla gente che apprezza quello che stiamo facendo. Credo che in periodi come questo sia una cosa che, anche per quello che abbiamo passato, che ci aggrada tantissimo e continueremo così perché già a gennaio abbiamo altri personaggi in cantiere, ne porteremo sempre di più importanti e quindi siamo contenti così, vogliamo offrire ad Arezzo e non solo, Arezzo e provincia, questa grande offerta culturale. L'occasione è stata ghiotta per ripercorrere con il maestro i suoi più grandi successi. Volevo fare il clarinettista, invece arrivò l'uso d'alla, si può cominciare da così? Allora si va nell'alto medioevo, si va in un periodo della mia vita molto distante, siamo negli anni 60 a Bologna, quindi sono passati quasi 60 anni e nel frattempo sono accadute molte cose, purtroppo l'uso non c'è più, c'è stato quando non doveva esserci e non c'è adesso che ci doveva essere. Senta maestro, come mai lei ha sempre saltellato tra la commedia un po' triste, magari in alcune volte con degli spunti ironici, ai thriller, agli horror, qual è stata questa passione? Ma perché l'educazione che mi è stata impartita, i primi anni della mia vita li ho trascorsi in campagna, per motivi bellici, in campagna della cultura contadina, intrisa di favole orrorifiche, spaventevoli, anche il tipo di religiosità, preconciliare, teneva molto conto della morte, del dopo, insomma, tutte cose che mi hanno sedotto e che continuano ancora a sedurmi, a volte quando voglio tornare in qualche modo a resettare come un'automobile, a portarla a fare il check, faccio un film gotico e mi rendo conto se sono ancora in grado di spaventare, se sono ancora in grado di riprodurre inquietudine. La Fondazione Fellini è stata importante per lei? La Fondazione Fellini è stata molto importante perché siamo riusciti a portare Fellini al Guggenheim, su tutti i suoi disegni, e riuscimmo addirittura ad acquistare il libro dei sogni, che è oro a patrimonio della Fondazione. Purtroppo poi a un certo punto a Rimini hanno cominciato a metterla in discussione, quindi si è tutto un po' dissolto.